Cos'è che devo fare? Dimmi. Che giorno è? Oggi è martedì. Martedì. Spero che il giorno ci ha avuto il cuore, no? Giusto. L'espiro, lo sai. Il cuore, lo sai cosa dire? Il cuore. È il rispetto, no? Giusto. Però, la gente, parlare è amare, è giù, non parlare. Rispetto a Spiro, sì. Oggi, problemi del cuore. Lo sai, tutta la gente lo sai. Chefe, ha rispetto o non ha rispetto? Aspiro. Ha rispetto. Perché io, la gente, per dire, voglio bene la gente. Perché le cose non fanno bene, capito? Perché, sa, meglio, perché, barrabbio. Sa, ma, barrabbio. C'è, non fanno le cose buone. Eh, ma pure le persone ti vogliono bene. O non fanno le cose. O non fanno. L'unico, l'unico, che è un spiro. E' un spiro, che è un spiro. E' un spiro tra le mie. Lo sanno tutto. In maniera, ho saluto, tutte le donne, sì. Però, del mare io non faccio male. Capito? Io penso le donne, penso l'altro. Ma, il problema, non c'è, capito? E' come c'è, il mare, 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 le donne, io, le voglio bene. Ho rispetto, ho rispetto. Oggi, sono in ospedale, sono male. Sto male, 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 male. Lo sanno tutti. Cosa hai, Spiro? Per i problemi del cuore. Oh. A Lo sanno. Ho i miei problemi. La salute. La salute è importante. La salute è importante. Ho parlato. Beh, se c'è da ma, aaro. No, in malassia. In malassia, io sono in malassia. Buon, se c'è da. Non ho pensato, a barri. Io ho pensato aaro. Ah. E' aaro. La tua squadra. E' aaro. E' tranquillo. E' aaro. Non ho pensato più, ma non ho pensato. Come ho fatto? E io siamo tutti qui. Aaro. E' aaro. E' aaro. E' aaro.